Dentro la natura c'è tutto, c'è il progetto, guardando bene le cose della natura ci si accorge che sono ricche di un rigore, di un metodo e contemporaneamente di grande sorpresa e libertà. Per cui una mostra sul cibo oggi può sicuramente e serenamente partire dalla rilettura del libro Good Design di Munari, che è un libro di 50 anni fa, assolutamente attuale, all'interno del quale Munari ci raccontava la bellezza dell'arancia come fosse un prodotto di design. Il progetto è sempre la nostra parola chiave, da architetti e da persone che hanno scelto di occuparsi di critica, però con il punto di vista della progettazione certamente questa è la parola che tiene insieme il nostro modo di vedere le cose. Oggi molti architetti e designer si sono cimentati in questi ultimi dieci anni intorno al grande tema del cibo, con una continuità e quasi un'assiduità sorprendente e abbiamo deciso di raccogliere, di in qualche modo provare ad ordinare questa miriade di grandi intuizioni che stanno intorno al problema della forma del gusto. Ovviamente il gusto vero lo lasciamo agli chef, che ne hanno da insegnare a chiunque, gli architetti e i designer si sono occupati di provare a immaginare nuove forme e si sono cimentati e divertiti a progettare biscotti, cioccolatini, liquirizie in modo innovativo e sorprendente. Effettivamente il cibo è il vero motore del mondo, anche perché per noi cibarci è la necessità prima. Di fronte ai problemi dell'alimentazione scoppiano le guerre, ci sono cose molto importanti, ovviamente anche tragiche e drammatiche. Allora davvero il cibo riesce ad essere un detonatore anche drammatico a volte. Noi abbiamo guardato il lato positivo delle cose e il lato anche più solare, non abbiamo dimenticato i problemi della contemporaneità e allora abbiamo scoperto che ci sono degli scienziati, designer e ricercatori in giro per il mondo che stanno immaginando di dare un volto nuovo a quelli che potrebbero essere i nostri cibi del futuro ponendosi dei problemi, delle problematiche anche di carattere di ecosostenibilità, di carattere ecologico e quindi necessariamente economico e politico e stanno prospettando e ci stanno proponendo delle visioni nuove. Ad esempio tutto il problema del mangiare più carne o mangiarne meno non è solo un problema di qualità della nostra alimentazione e non ha solo una ricaduta sulla nostra salute o sulla nostra persona ma ovviamente ci sono delle ricadute importanti a livello ecologico cioè il mangiare carne vuol dire una filiera di produzione che inquina moltissimo, che costa moltissimo, mentre il mangiare verdura può sicuramente aiutare molto anche da questo punto di vista. Allora ci sono degli sperimentatori che ci stanno facendo vedere la verdura e la frutta in un modo nuovo e stanno immaginando anche un po' di, non dico prenderci in giro, ma in qualche modo di farci pensare, perché immaginano di confezionarci dei cibi che in realtà la materia prima è verdura ma si presentano a noi come fossero delle carni. Quindi per noi visivamente ci sembra di mangiare una bistecca, ma in realtà lì dentro ci sono dei cavolfiori o delle rape o cos'altro. Su questa linea ci sono delle ricerche ancora più spinte. C'è una ricercatrice londinese che sta immaginando se questo sarà il futuro, cioè quello di un mondo più vegetariano, addirittura lavorando con le tecnologie di oggi di arrivare a sostituire i nostri denti da carnivori con denti da herbivori. Quindi in mostra c'è il progetto di un dente che può essere di derivazione ovviamente di staminale eccetera eccetera, che può esserci impiantato per permetterci di mangiare tranquillamente verdure rispetto invece alla dentatura nostra tipica, che è comunque una dentatura carnivora. I designer sono molto golosi e moltissimi designer si sono dedicati a questo territorio del cibo, sia perché è diventato un momento della disciplina effettivamente ricco di potenzialità, ma anche perché gli piace sicuramente mangiare quello che fanno.